Comunque abbiamo intorno alla festa di Napoli e Chiara, c'è le cantanti che hanno fatto ritorno sulla musica, queste qui, Buffet, preparare il tavolo con il buone preferito di Paola, Corolla, Light, Acqua, Champagne, Vino Rosso, Invece, per quanto riguarda i cibi, il cibo preferito di Chiara, di Chiara Ghezzi, il pane scuro in Tarnese con vese d'acchino, salame capriccio, besaola, wuster, calamari fritti che fanno pensare al mare, la canzone Mare e Caos di Paola e Chiara, sono Robby, fare gli inviti con cartoncino bianco, Fucsia e scriverci un invito su un invito su una frase di Paola e Chiara, per esempio, no? Che ne so, beh, senza affermarci più, oppure questa giungla fuori, queste frasi qua, e scriverci Ghezzi, 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 Luque, Paola e Chiara, scegli un posto ampio dove puoi esservi un palcoscenico, o poi sbitti con i tuoi amici, sono Chiara, ovviamente si mettono, se si vuole si canteranno, si cantiamo altre canzoni parecchiare, l'unico album che hanno fatto, parecchiare per sempre e quindi questo è il mio gioco a tutti